La Calabria è ancora scossa, quasi intontita, dalla maxi operazione antimafia condotta questa mattina all'alba dai Carabinieri del Rosso su indicazione della procura antimafia di Catanzaro. L'hanno chiamata operazione rinascita non a caso. 334 persone arrestate, 416 indagati a smantellare da un lato la cosca Mancuso del Vibonese, ma a evidenziare anche, non solo le sue propaggini in tutta Europa, ma anche i contatti con il mondo dell'imprenditoria, dell'amministrazione e della politica. Iniziamo a vedere questo servizio. È la più imponente operazione antimafia mai messa a segno in Calabria, la seconda in Italia, dice Nicola Gratteri, dopo quella che portò al maxiprocesso di Palermo. L'operazione rinascita Scott parla di 416 indagati in tutta Italia, 260 persone in carcere, 70 ai domiciliari, 4 di vieti di dimora e di sequestri di beni per 15 milioni di euro. Parte dal Vibonese, dove azzera la potente Cosca Mancuso e le famiglie sue alleate, con accuse che vanno dall'associazione mafiosa all'omicidio, dall'estorsione alla corruzione, ma inevitabilmente finisce col coinvolgere anche pezzi da 90 della politica regionale. Così, oltre al capo Cosca Luigi Mancuso, tra gli arrestati figura l'avvocato ed ex parlamentare di Forza Italia Giancarlo Pittelli, accusato di associazione mafiosa. Secondo gli inquirenti, anche in virtù della sua appartenenza al Grand Oriente d'Italia, avrebbe avuto rapporti diretti col boss, mettendo a disposizione il proprio patrimonio di conoscenze, di rapporti con esponenti di primo piano a livello politico-istituzionale, del mondo imprenditoriale e delle professioni, anche per acquisire informazioni coperte dal segreto d'ufficio e per garantirne lo sviluppo nel settore imprenditoriale. C'è poi il sindaco di Pizzo e presidente regionale dell'Anci Gianluca Callipo del Partito Democratico, che sfruttando il suo ruolo politico ed amministrativo, avrebbe illecitamente favorito il sodalizio, garantendo ad alcuni indagati benefici nella gestione di attività imprenditoriali. Ai domiciliari, il segretario del PSI calabrese Luigi Incarnato, così come l'ex consigliere regionale del Partito Democratico Pietro Giamborino, ritenuto formalmente affiliato alla locale di Piscopio, avrebbe intessuto legami con alcuni dei più importanti appartenenti all'andrangheta vibonese, per garantirsi voti ed appoggi necessari alla sua ascesa politica, divenendo di fatto uno stabile collegamento dell'associazione con la politica calabrese, funzionale alla concessione illecita di appalti pubblici e di posti di lavoro per affiliati o soggetti comunque contigui alla consorteria. E poi c'è Nicola Adamo, ex parlamentare ed ex assessore del Partito Democratico, destinatario di un'ordinanza di divieto di dimora in Calabria per traffico di influenze. Un terremoto insomma che coinvolge anche professionisti, imprenditori, massoni e addirittura l'ex comandante del reparto operativo dei Carabinieri di Catanzaro, Giorgio Naselli, adesso comandante provinciale a Teramo. Ai domiciliari Filippo Nesci, comandante della Polizia Municipale di Vibo, accusato di episodi di corruzione in favore del clan, arrestati anche il consigliere comunale di Vibo, Alfredo Lobianco, del PD, suo fratello Orazio, e l'ex assessore comunale, sempre di Vibo Valencia, Vincenzo De Filippis. Capirete bene come lo spessore dei personaggi politici coinvolti nell'inchiesta potrebbe in qualche modo incidere anche sulle prossime elezioni regionali, alcuni di loro infatti sono impegnati, interessati in prima persona dalla competizione elettorale che ci sarà a gennaio. Nel prossimo servizio invece vediamo il modo in cui operava il clan Mancuso, tra l'altro l'operazione ha fatto luce anche su quattro omicidi. Ha ricostruito organici alleanze permettendo di disarticolare gli assetti dell'Andrangheta Vibonese in tutto il territorio nazionale e all'estero e facendo emergere legami di interessi comuni con personaggi del mondo politico e dell'imprenditoria. L'imponente operazione Rinascita Scott, condotta dai Carabinieri del Rosso e coordinata dalla Procura Antimafia di Catanzaro, è il frutto di diversi anni di indagine che hanno rivelato la pervasività del clan Mancuso e la sua capacità di coordinare e dirigere un sistema che controllava il territorio in maniera capillare. A capo di tutto Luigi Mancuso, 65 anni, capace di guidare la cosca anche dal carcere, di ricomporre pure i contrasti interni alle diverse consorterie, che sono tutt'altro che poche per una provincia così piccola, oltre 10 quelle disarticolate nell'operazione di oggi. Evidenti anche i contatti extra-provinciali, con scambi di favori e rapporti di mutuo soccorso con i De Stefano di Reggio Calabria e i piromalli di Gioia Tauro. Associazione mafiosa, omicidio, estorsione, usura, fittizio e intestazione di beni, ancora riciclaggio, detenzione di armi, traffico di stupefacenti, truffe, turbativa d'asta, traffico di influenze e corruzione, i reati contestati agli indagati. L'operazione è stata condotta in 11 diverse regioni, in cui l'andrangheta vibonese si era ramificata. Ha fatto luce, tra l'altro, su 4 omicidi e 3 tentati omicidi consumati tra il 1996 e il 2017. Il duplice omicidio di Antonio Logiudice e Roberto Soriano, uccisi a Filandari nell'agosto del 1996, quello di Nicola Lobbianco, ucciso a Vibo Valencia il 3 maggio del 1997, quello di Alfredo Cracolici l'8 febbraio 2002 a Vallelunga e poi 3, più recenti, tentati omicidi, tutti maturati nell'ambito di scontri interni alle famiglie. La collusione con professionisti, dicono gli inquirenti, ha poi sostenuto l'infiltrazione dei clan nell'imprenditoria, utile a riciclare denaro sporco in attività turistiche e investimenti immobiliari. Documentata a Roma la creazione di una rete di negozi di calzature e l'apertura di una fabbrica attraverso un circuito societario che fa capo a società di diritto britannico. Nel Regno Unito, invece, erano state create reti societarie per finte operazioni commerciali in cui ripulire il denaro. E poi ci sono le attività più classiche di estorsione, imposizione del pizzo, usura, traffico di droga, controllo dei servizi funebri. Documentati, infine, Summit d'Indrangheta per il conferimento di promozioni e di incariche ad affiliati di rilievo, come il pizzino sequestrato ad uno degli indagati, in cui, in un italiano approssimativo, viene riportata la formula di rito per il conferimento del grado di trequartino, uno dei più elevati nella gerarchia dell'Andrangheta. Uno dei video che avete visto mostrava anche, faceva capire, le intercettazioni tra alcuni indagati che parlavano tra di loro, preannunciando, mostrando in qualche modo di essere a conoscenza di questa gigantesca operazione. Questa è la ragione per cui l'operazione è stata anticipata di 24 ore. lo ha spiegato con dovizia di particolari il procuratore di Catanzaro Nicola Gratteri al termine della conferenza stampa di questa mattina. Voi capite cosa vuol dire nell'arco di 24 ore spostare 3.000 uomini? Cioè, posticipare sarebbe stato meno difficile, ma anticipare 3.000 uomini e fagli tornare alla rancetta di terra è una cosa da folli. Ma ieri sera, dopo una riunione drammatica, quando noi abbiamo sentito, quando avevamo la certezza che i vertici, che l'Andrangheta sapeva che l'operazione sarebbe scattata l'alba di venerdì 20, c'è stato il panico. Cioè, capite cosa vuol dire 343 latitanti? Avremmo messo a repentaglio tutto. La sicurezza. Tutto. Allora bisognava essere folli, bisognava in quel momento avere una decisione folle, una follia. Bisogna anticipare. Silenzio di Tom, ma non si respirava più in quella stanza, ieri sera qua sopra. Bisogna anticipare. Bisogna anticipare. Non è possibile. No, è possibile. Non è possibile. Abbiamo i reparti speciali, sono pronti, ma il territoriale non possiamo, non abbiamo la possibilità di rimuovere. Non lo voglio ritrovare. È arrivata gente da tutte le parti, carabine da tutte le parti. Ecco perché oggi io ho insistito, perché volevo il generale robusto qui davanti a me, come gli altri generali, come gli altri colonnelli. Perché per me era importante, io volevo che voi li vedeste fisicamente questa gente, che non si vede mai in televisione, ma che sono il motore di queste operazioni. E allora ho insistito, no, domani mattina bisogna fare, domani mattina. E allora noi avevamo i due promotori, avevamo Mancuso Luigi, che tornava da Milano, e noi sapevamo che non l'avremmo più visto. Bene. Questi uomini incappucciati dei GIS, reparto speciale, reparto di elite, sono saliti sul treno e hanno viaggiato assieme a loro, per tutto il viaggio. Sono partiti da Milano, per tutto il viaggio li hanno seguiti. E voi capite cosa vuol dire, dal punto di vista della tensione nervosa, non farsi riconoscere. Luigi Mancuso non è uno stupido, è un'unica persona intelligente, intelligenza volta al mare. Hanno viaggiato per tutto il tempo, non sono accorti. La Mezzia, la discesa successiva sarebbe stato Rosarno, quindi fermato alla Mezzia. Non si è manca accorto, è stato preso, non si è reso conto di questo che stava succedendo. Il servizio era di Giuseppe Laratta. Ora sentiamo invece le ulteriori dichiarazioni proprio del procuratore Gratteri, che parla non solo dell'imponenza dell'operazione, ma soprattutto della facilità, con cui i clan sono riusciti ad avvicinarsi alla politica e a seguire invece le dichiarazioni del comandante dei Ross, Pasquale Angelo Santo. Sicuramente è una grandissima operazione, sicuramente abbiamo azzerato i vertici dell'Andrangheta della provincia di Vibo Valencia, quindi non solo la famiglia Mancuso, ma diversi locali, oltre 12-13 locali di Andrangheta in provincia di Vibo Valencia, che avevano amministrazione in tutta Italia. Questa notte i carabinieri hanno fatto arresti dalla Sicilia e dalla Lombardia. Dipenderà molto da noi, a questo punto dipenderà molto da noi. Io penso che la procura istituzionale di Catanzaro, penso che i carabinieri abbiano fatto la loro parte, abbiamo fatto la nostra parte. Ora sta alla società civile, sta anche alla stampa, sta anche agli storici, sta anche agli educatori, spiegare alla gente cosa è l'Andrangheta oggi, nel 2019, ma soprattutto spiegare che devono avere più coraggio, devono occupare gli spazi che noi questa notte abbiamo liberato. La cosa che più ci ha meravigliato è stata la facilità della permeabilità dei quadri della pubblica amministrazione da parte della famiglia Mancuso, intesa come provincia di Vibo Valencia. Questa è la cosa che più ci ha mareggiato, vedere uomini di istituzioni al servizio della provincia di Vibo Valencia. Questa è stata molto triste e anche purtroppo degli avvocati e dei commerciaristi. Oggi è stato inferto un duro colpo ad una delle più potenti cosche dell'Andrangheta, operante nel Vibonese, capeggiata dal Mancuso Luigi, dotata di una elevata capacità militare di controllo del territorio, di consistenti ricchezze e liquidità che le conferiscono una capacità corruttiva e collusiva che la portata ha in testa dei rapporti con la pubblica amministrazione, con le professioni e con le imprese. Le primissime reazioni all'operazione rinascita sono arrivate dal leader della Lega Matteo Salvini, dal commissario della Lega Calabria Cristian Invernizi e dal presidente della commissione parlamentare antimafia Nicola Morra che le ha affidate ad una diretta Facebook. Grazie alle forze dell'ordine per questa operazione di pulizia che fa bene alla Calabria. Non vedo l'ora che arrivino le elezioni regionali del 26 gennaio per offrire anche a questa splendida terra il buon governo, l'efficienza e l'onestà della Lega. Lo ha dichiarato il leader del carroccio Matteo Salvini commentando il maxi blitz contro l'andrangheta che ha fatto scattare 334 arresti in Italia e all'estero. Sull'operazione è intervenuto anche il commissario della Lega in Calabria Cristian Invernizi. Complimenti a Nicola Gratteri e alle forze dell'ordine ha dichiarato. Oggi è un giorno storico, rammarica tuttavia notare che anche questa volta ci siano politici coinvolti. Abbiamo necessità di garantire ai calabresi una svolta e siamo certi che faranno una scelta di rottura con un vecchio sistema di clientele malaffare che ha distrutto questa magnifica regione. Sull'operazione rinascita è intervenuto anche il presidente della commissione parlamentare antimafia Nicola Morra con una diretta su Facebook in cui ha dichiarato che questa è una giornata storica. L'operazione che è stata portata a termine questa notte e questa mattina presto è stata un'operazione storica di alto impatto. L'ordinanza che è stata realizzata dalla procura di Catanzaro è un'ordinanza che si compone di 13.500 pagine. Pensate anche che la direzione distrettuale antimafia di Catanzaro ha dovuto far stampare queste ordinanze questi 5 milioni di foglie di carta altrove cioè non in Calabria per evitare fughe di notizie e questa notte dei camion blindati hanno trasferito le ordinanze appunto in Calabria perché potessero e possano essere date ai legali degli attinti. Se non mettiamo al centro dell'agenda politica l'azione di contrasto alle mafie noi saremo sempre costretti ad inseguirli. oggi siamo intervenuti con una grandiosa operazione di repressione ma la guerra la vinceremo quando faremo prevenzione noi dobbiamo portare al sud e non soltanto anche al nord istruzione cultura perché sono quelle le armi con cui un cittadino combatte il pensiero meschino di poter usare la violenza dell'intimidazione la forza della corruzione per poter imporre il proprio volere. La democrazia è dialogo e confronto è rispetto e questi signori rispetto non l'hanno mai avuto. Una reazione politica invece in chiave le elezioni regionali è arrivata da Francesco Di Lieto che ha praticamente annunciato di voler ritirare la sua candidatura per il Codacons alla presidenza della regione Calabria. La misura è colma dice Di Lieto rinuncio alla mia candidatura se praticamente ogni mattina si legge di esponenti politici e amministratori coinvolti in faccende di mafia allora succede veramente qualcosa di perverso trovo squallido dice cimentarmi nella conta degli arrestati e non mi appassiona indagare sulle loro vicinanze politiche ma ora la misura è colma. Sempre in tema di elezioni regionali Forza Italia ha confermato con una nota la candidatura di Iole Santelli a presidente della regione Calabria nella nota sottolinea anche che Forza Italia è il partito che ha fondato il centro-destra più di 25 anni fa e che da allora ha gestito e continua a gestire i rapporti con gli alleati con assoluta lealtà adesso si attende la risposta proprio degli alleati del centro-destra vale a dire la Lega e Fratelli d'Italia Una terribile storia di pedofilia arriva da Torano Castello nel Cosentino dove per molti anni una bambina oggi a 19 anni ha subito gli abusi dello zio l'uomo che è il marito di una zia della ragazza è stato arrestato per violenza sessuale aggravata su minorenne abitava a fianco alla famiglia della vittima per questo poteva vederla praticamente ogni giorno ad accorgersi che qualcosa non andava è stata un insegnante di cui la denuncia l'intervento dei carabinieri cui la ragazza ha raccontato l'incubo vissuto dal 2009 un giovane di 19 anni è morto in un incidente stradale che si è verificato sulla corsia nord dell'autostrada del Mediterraneo tra gli svincoli di Rogliano e Cosenza l'autostrada è rimasta chiusa per alcune ore e l'incidente ha coinvolto un'auto e un mezzo del personale che ha lavoro sull'autostrada chiudiamo l'amplissima pagina di cronaca alleggeriamo un po' i toni raccontandovi di un libro il libro è dell'avvocato catanzarese Pier Vincenzo Gigliotti che ha inaugurato la nuova collana di Local Genius dedicata alla narrativa il volume che è dedicato al Catanzaro Calcio questa grande passione dell'autore per il Catanzaro Calcio sarà presentato venerdì 20 dicembre al liceo classico Gallupi di Catanzaro Un fortissimo legame con la propria città d'origine che vanta tra i suoi simboli più amati una squadra di calcio dal nobile passato si può racchiudere in queste parole il senso di Radici nel vento romanzo autobiografico firmato dall'avvocato catanzarese Pier Vincenzo Gigliotti che ha inaugurato la nuova collana di libri di Local Genius dedicata alla narrativa identitaria intitolata Petali il volume sarà presentato venerdì 20 dicembre alle 9.30 al liceo classico Gallupi di Catanzaro in un incontro che rientra nella kermessa autunnale dell'associazione Gutenberg alla quale sarà presente tra i vari anche l'autore il presidente dell'US Catanzaro Floriano Noto e Mariella Ceravolo figlia del presidente Nicola Ceravolo Radici nel vento riesce più di ogni possibile saggio critico a raccontare l'amore per Catanzaro nonché l'irrinunciabile richiamo a radici che significano stili di vita culture tradizioni quotidianità famiglia rapporti sociali e calcio l'attaccamento dei catanzaresi per la squadra giallorossa che diventa vera e propria religione quando si richiamano i fassi della serie A assume una dimensione quasi antropologica che va molto al di là della pura passione sportiva il Catanzaro e i colori giallorossi sono quasi un mito sono una bandiera da difendere e da hissare in ogni circostanza come segno di appartenenza a una comunità come fattore primario di riconoscibilità un amore sviscerato che si trasmette di generazione in generazione in cui l'eroe per eccellenza è il bomber Massimo Palanca il Maradona dei catanzaresi il racconto di Pier Vincenzo Gigliotti che parte dalle memorie di un bambino scorre in maniera leggera ma puntella sentimenti molto forti per un'identità sulla quale costruire il presente e il futuro di una collettività in chiusura come sempre io scelgo Calabria che quest'oggi ci porta ad Amantea in chiusura La cultura d'Alfico è da sempre centrale nella civiltà contadina della Calabria Alla fine di questa filiera abbiamo delle aziende artigiane di vera eccellenza che ancora oggi producono con gli stessi metodi e le stesse tecniche delle nostre nonne Con noi Davide Marano, terzo rappresentante della generazione dei fratelli Marano che ancora oggi propone questi prodotti di eccellenza Il Natale è sicuramente il periodo di lavoro più intenso per voi Qual è la risposta dei consumatori? Sì Antonella, come dici tu, il Fico è un prodotto millenario quindi da sempre è stato ricercato dai consumatori sia quelli di 2000 anni fa che quelli di oggi Un tempo si cercavano le crocette di fichi i fichi lavorati con le noci dentro che ha più di 2000 anni di storia Oggi, oltre alle crocette che noi continuiamo a fare secondo le ricette della nostra famiglia e dei nostri nonni ricette esclusive dei fratelli Marano Ci sono anche altre lavorazioni I fichi lavoriamo in più di 50 modi diversi uno dall'altro e quindi oltre alla linea tradizionale ci sono anche quelli col cioccolato e altre tipologie di prodotti Ecco, qui per esempio abbiamo a fianco a noi una tipologia di prodotto legata comunque all'innovazione ma legata soprattutto a prodotti del territorio calabrese abbiamo ad esempio prodotti al cui interno sono stati inseriti la liquirizia il peperoncino, il bergamotto perché hai deciso di valorizzare i prodotti calabresi? Sì, c'è stata l'intenzione di innovare quindi portare nuove ricette perché il fico intanto riesce ad abbinarsi a sposarsi con tantissimi altri ingredienti dell'ambito dolciario e poi c'è stata anche questa intenzione di legarci ancora di più al territorio come tu hai detto prima il fico è un prodotto tradizionale, storico, antico della nostra terra ce ne sono anche altri come il bergamotto, la liquirizia, il peperoncino, il cedro e quindi abbiamo creato questi abbinamenti proprio per rimarcare ancora di più l'identità l'identità del prodotto e le eccellenze della nostra terra Il consumo è quasi esclusivamente legato alle festività natalizie oppure viene utilizzato anche come souvenir dai turisti ma a tuo parere c'è la possibilità di destagionalizzare questo prodotto? Sì, diciamo che la stagionalità è legata un po' ai nostri usi e costumi un po' noi calabresi o italiani in generale perché gli stranieri invece consumano il prodotto anche durante l'anno anche in altre stagioni c'è questa possibilità perché intanto è un prodotto completamente naturale è un prodotto genuino della nostra terra è energetico, ha tante proprietà nutritive, nutrizionali se lo andiamo a paragonare con tanti prodotti provenienti dall'industria snack, brioche, merendine che ci sono in giro certamente preferiamo di gran lunga i nostri fichi Infostudio termina qui, era l'ultimo nostro servizio grazie per essere stati con noi, buona serata, arrivederci Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti